Il Policlinico di Bari ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti di 12 medici e 8 infermieri che hanno partecipato durante l'orario di servizio ad una festa privata organizzata in un reparto dell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII. La direzione sanitaria ha acquisito la documentazione fotografica diffusa sui social network e dai dipendenti e ha identificato i partecipanti richiedendo al responsabile dell'unità operativa una relazione istruttoria per accertare se oltre all'evidente mancato rispetto delle regole di distanziamento e corretto utilizzo delle procedure di prevenzione possa essersi verificata un'interruzione di pubblico servizio o altra condotta penalmente rilevante. La direzione aziendale annuncia che trasmetterà gli atti all'autorità giudiziaria per l'accertamento delle responsabilità. Per il direttore generale Giovanni Migliore si tratta di un comportamento inaccettabile e irresponsabile. Tanto più che la provincia di Bari sta pagando pesantemente la seconda ondata epidemica in corso ed in particolare lo scotto della riapertura delle scuole. Nelle ultime due settimane sono stati registrati contagi da coronavirus in 25 istituti scolastici diversi, tranne che in un solo caso il covid-19 è stato portato dall'esterno, precisano dalla regione Puglia. A Gravina erano state chiuse e riaperte nel giro di 24 ore tutte le scuole della città per l'accertamento di quattro contagi. Stamattina il sindaco Valente ha dovuto nuovamente chiudere il plesso scolastico di via Fratelli Cervi per un caso di covid tra i bambini che frequentano l'istituto. Lezioni a distanza invece in un liceo di Foggia dove sono state chiuse 18 classi in via precauzionale. Nella BAT la situazione sembra essere tornata tranquilla dopo i casi di coronavirus tra alunni e personale registratisi negli scorsi giorni in alcune scuole di Barletta, Trani, Andrea e Canosa, ma servono prudenza e comportamenti virtuosi per evitare una nuova impennata dei contagi, avverte l'assessore regionale alla sanità Pierluigi Lopalco. Il virus sta circolando in Puglia più di quanto non abbia fatto nei mesi di marzo ed aprile e sarà necessario in tempi brevi avviare i test rapidi nelle scuole per contenere i disagi nell'organizzazione delle elezioni. Attualmente a Bari ci sono 536 contagiati, ad Andria i casi di covid della seconda ondata epidemica hanno superato quota 130, a Barletta sono più di 60, a Biceglie oltre 50, a Trani sono 31, numeri ad ogni modo che non tengono conto delle guarigioni avvenute negli ultimi due mesi. La grande maggioranza dei casi è asintomatica ed è il motivo per cui il sistema sanitario puglise sta reggendo senza affanni l'urto della seconda fase della pandemia. Grazie a tutti.